Noi dell'Associazione Culturale Quercus lavoriamo da anni convolgendo le istituzioni per offrire a giovani artisti emergenti la possibilità di esprimersi ed avere uno spazio di tutto loro, nel quale far ispirare le proprie ambizioni. Negli anni Global Futuro è diventato un festival esinerante delle arti, crescendo e convolgendo sempre più giovani, fino ad arrivare quest'anno alla quinta edizione. Anche quest'anno manteremo l'impegno preso per permettervi di godere di nuove forme ed espressioni d'arte e confrontarvi con nuovi orizzonti artistici. Sostieni Global Futuro, sostieni l'arte. Contribuisci, cercaci su www.capipal.com Contribuisci, cercaci su www.capipal.com